Dunque, il rossetto ce l'ho e adesso un bel selfie! Sì, carina? Non credo serva un filtro. Oh, guarda Sofia! Cosa c'è che non va con la mia faccia? Non puoi pubblicarla. No! Ormai è tardi, mia cara. Almeno io sono venuta bene. Accidenti, sono così stanca. Mi riposerò giusto gli occhi per qualche minuto. Adesso posso rimediare alla catastrofe. Stai dormendo? Ora fammi prendere questo giusto per un secondo. Oh no, c'è un codice d'accesso. Non riesco ad accedere. Ma Eva può... Penso di sapere che fare. E questo rossetto è la soluzione. Basta strofinarlo sulla punta del dito della vittima. Quindi pigialo su un pezzo di nastro adesivo. Fichissimo! Adesso devo solo fare il trasferimento. Basta premere in questo modo e usarlo per accedere al telefono. E adesso sono cavoli tuoi. Il tuo Instagram sarà hackerato. Ecco qui il tuo telefono. Com'è bello essere cattivi. Mi sono addormentata. Chissà quanti mi piace sono arrivati. Sofia, sei stata tu? Che amica del cavolo. Sono già le sedici e quattordici. A dopo. E io gli ho detto, ma era un vero cane? Ci vediamo dopo. Che modi. Sempre le sedici e quattordici. Devo scappare. Ciao. Ciao. Sì, sedici e quattordici. Che strano. Accidenti che giornata. Sofia, è a casa? Ma che cos'è questo? Accidenti! Ma dove andrà tutti i giorni? La localizzerò con questo. Lascialo cadere prima che torni. E un'altra giornata è andata. Ci vediamo dopo, ok? Che la localizzazione abbia inizio. Adesso mi siedo e osservo. Si muove velocemente. Finalmente saprò la verità. Ma devo essere discreta. Ormai ci siamo. Il mio telefono dice che è vicina. Faccio solo qualche scatto al volo. Sì, l'ho presa. Ma quello è un libro? Mi ha vista? Mi sa che sarà meglio andarsene. Sta piovendo forte. Stupido vento. Stupido vento. Ehi! Avevo solo quell'ombrello. Dove ha preso quel poncio? Stai pensando a quello che penso io? Diamoci dentro. Stupido vento. Iniziamo stendendo il sacchetto. Ora apriamolo. E adagiamolo sul tavolo. Quindi prendiamo delle forbici. E tagliamo lungo il lato del sacchetto. Poi in mezzo. E in due punti così. Quindi estrai il quadrato che hai tagliato. E vedi questi? Sono le parti più importanti. Perché formano il cappuccio. Una volta che le cinghie sono legate, possiamo affrontare la pioggia. Diamoci da fare, ok? Ventaccio. Adesso provaci. Pottiamo la spazzatura. Avresti dovuto vedere quella partita. Più Sofia parla della partita, più si agita. Perché fa così caldo? Sto sudando come un maiale. Forse a causa dell'allenamento. Torno subito. Aiuto. Accidenti, arrivo. Tirami il braccio. Più forte. Forza ragazze, tirate. E ancora, tirate. Sono mortificata. Sofia, aspetta. Ma che figura. L'intero ristorante mi ha vista. Non preoccuparti, succede. Vorrei sistemare la cosa. Ehi, che dire di questo? Eh? Girati. L'antitraspirante asciugherà la pelle. Mi sento già meglio. Fresca e asciutta. Ora vediamo se funziona. Che sollievo. Che sollievo. Ma riuscirà a resistere un'altra ora da seduta? C'è un solo modo per scoprirlo. Paghiamo e usciamo di qui. Sì! Eva, ci siamo dimenticate delle tue di gambe. I venerdì sera sono i migliori. Soprattutto quando ci mangiamo gli hamburger. Wow, mi sa che avevi fame, Kevin. Ti sei divorato quell'hamburger. Ma quel rumore proveniva dal tuo stomaco? Mi sa che devo andare in bagno. Ho digerito in fretta quell'hamburger. Wow, mi sa che Kevin non si sente bene. E non deve essere piacevole. Per evitare schizzi dal water, prova questo piccolo trucco. Con solo un quadrato di carta igienica puoi fermare qualsiasi schizzo. Ora va meglio. Oh, che sollievo. Muori, zombie, muori! C'è Kevin! Kev, mai tanto! Esco subito! Kevin, dai! Ho detto un minuto! Devo proprio andare! Ma perché ci hai messo tanto? Ma chi è morto? Gli oli essenziali! Ho bisogno di una bella annusata. Molto meglio. Anche qui servirebbe. E forse... Basteranno un paio di gocce per risolvere il problema. Questo dovrebbe andare. Io sì che sono un vero genio. Ora tocca a me fare le mie cose. Solo che io non puzzo. Ora sì che va meglio. Non mi sono mai sentita meglio. Wow, questa Mary Poppins è fantastica. Sicuro che sia una buona idea, Adam? Oh no! Che casino! Sarà tutto appiccicoso. Io che volevo solo leggere e rilassarmi. Ehi! Che ci fa lì quel nastro adesivo? Ho un'idea. Per rilassarsi senza far danni, avvolgere il nastro adesivo intorno al bracciolo e fissarlo a se stesso. E ora avete un portabicchieri di fortuna. O portatazza. O portanoodle. Qualunque sia il suo utilizzo, vi rilasserete senza far danni. Non mi si pronuncio. Grazie a tutti